Il cibo e l'alimentazione è una di quelle cose che bisogna cambiare, che vi spiego anche qua sul sito, c'è una buona parte anche sull'alimentazione, su come va cambiato il modo di mangiare, usare il coltello, forchetta e poi masticare dietro, perché non sono denti, sono simulazioni di denti, c'entrano nulla con i denti reali, sono dei tritatutto che devono triturare il cibo. E più dopo che li utilizzi dovete anche tenerli puliti, evitare di metterci in mezzo cose dure, per quello dico sempre iniziate e restate anche col cibo morbido, perché quando poi mangiate capiterà che qualcosa ci andrà, pensate voi tutte le volte che vi è andata qualcosa di duro tra i denti e avete riaperto la bocca, fatto così, capita, prima o poi capita a tutti di mettere la bocca in maniera scorretta oppure che ci va qualcosa tra i denti, se però il rischio non lo possiamo eliminare, possiamo ridurlo come mangiando cibi morbidi, che così se ci va qualcosa tra i denti non stavate stringendo forte in quel momento, ma stavate mangiando un po' più morbido, pancarrè, pasta, riso, purè, polpette, polpette un po' rischiosa a meno che non usate un macinato molto sottile, il macinato può avere cartilagini in mezzo, i burger per esempio, quelli troppo grossolani sono un po' pericolosi. Cercate, no, fate le polpette di pollo per esempio, con quel macinato che è quasi farinoso, insomma, evitate i pezzi grossi di macinato che possono avere pezzi di ossa o cartilagina, le torte possono avere gusci di noci, le torte meglio magari a quel punto, mangia quella industriale, fai una scelta, oppure i cibi che possono dare problemi sono, diciamo sono finti i problemi, quelli che macchiano i denti, i carciofi per esempio. Ah, non sapevo questo. Se tu, per esempio, a volte mi arrivano delle foto, il paziente è spaventato che si vede tutti i denti neri, è perché c'aveva il tartaro, il calcare che sta sulla cornetta della dolcia, che non si vedeva, ha mangiato i carciofi, quello si colora di nero e si vedeva ad un certo punto tutta la protesi nera, è il momento di andare dall'igienista. Lei stacca con l'idrogetto, con il bicarbonato, questo calcare, la protesi torna pulita, oppure lava con lo spazzolino, pian piano nei giorni, settimane, quella protesi torna in un colore normale, però i cibi che contengono ferro danno questo effetto qua.